Un altro incidente! Porca puttana! Ciao! Oh, col bodyguard! Buongiorno e benvenuti nel mio garage! Ciao! Oggi è domenica 24 settembre e oggi a Bergamo ci sarà il raduno di Edoardo Iannone E qui siamo a Vicenza E non piove Diluvio universale Qui dietro di me c'è Emanuel All'R6N non fateci caso È perché non sono ancora venuti a prendere Il Dominator non lo posso usare perché l'ho portato a farlo ripotenziare Oggi andremo a Bergamo in doppio con il Monster di Emanuel Forse L'unica cosa particolare è che ieri sera siamo andati a mangiare messicano A base di sangria e aglio E quindi siamo pronti ad uccidere qualsiasi persona che ci avvicina Siamo partiti e la posizione dietro al Monster è scomodissima Devi apprezzare le cose Non ho affonato Non ho affonato Più serio? Siamo appena entrati in autostrada e adesso ci aspettano due ore di tortura E il vocale di questo pezzo di video lo farò a casa perché giustamente ho ottenuto la GoPro esposta al vento Siamo all'altezza di Verona e abbiamo trovato un incidente Questa qui è la caronna Un altro incidente Porca puttana Ma sta solo? Piccola sosta in quest'area di servizio Ci togliamo l'antipioggia Cioè ci siamo già tolti Rimetto la GoPro dentro al casco perché mi è smesso di piovere Così mi ritorna la voce Molto bene Mi è ritornata la voce È uscito il sole E adesso corre verso Iannone Mancano ancora 50 km Il raduno iniziava alle 9 e sono le 11 Porca troia Siamo appena usciti dall'autostrada Adesso ho impostato il navigatore Manuel hai una moto puoi superare se vuoi Siamo in ritardissimo C'è spazio C'è spazio Stai superi questi 4 micchioni Fammelo sentire sto testa stretta Senti Man che curva Vai vai apri Subito la voce Dritto Al semaforo a sinistra Alla rotonda a destra Destra E dopo subito a sinistra La prossima a sinistra Qua è piano Ah là in fondo Sì Alla rotonda a destra Destra Questa è una rotonda Gira a destra Alla prossima a rotonda Gira a sinistra Alla rotonda a dritto E qua a destra Non hai messo la freccia Alla rotonda a dritto Sempre dritto Cioè per di là Dritto 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 Alla rotonda a sinistra Vai vai Qua dritto Scusa Ben La rotonda a dritto Eh 7 km Qua a destra Se mi cade il telefono Guarda Là No non stai a incolonnarti qua Va dall'altra parte Taglia 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 Ok bravo Ben 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 Mi chiede Stavano facendo una Aereografia Quella smart Ah è per diamine Ecco Vedi perché Cazzo è tutta la mattina Che continua a dire Per dalmine È per diamine Sì con la Mini Cooper Secondo me stiamo andando dalla porta sbagliata Perché la Mini Cooper là doveva essere da Jannone Secondo te Se tipo io sto dietro di te non mi riconoscono mica vero Essendo in moto con Manuel Secondo me non mi riconosce nessuno Strani incognito Voglio vedere se c'è qualcuno che mi riconosce Deve essere sulla sinistra Siamo quasi arrivati Sì la sinistra o dritto? Devi andare sempre dritto il negozio è sulla sinistra Ma penso che lo vediamo Mi hanno già visto No sempre dritto Sempre dritto Sempre dritto Sempre dritto Dovremmo trovarlo sulla sinistra Ripeto Sì Sempre dritto Porca puttana A sinistra Mamma come supera all'interno Oh che c'è il briciolino Minchia che figure che facciamo Iniziava alle 9 Sono alle 11 e mezza Incredibile Disorganizzati Occhio al briciolino Ben ben che stretto Secondo me è là Vedo tipo tutti i pixel Ti ricordi come in FIFA 2000 Che vedi il pubblico con tipo quadrattini e basta Abbassa la visiera Faccio finta di niente Te parcheggia come Cioè fa finta di niente Parcheggia come Ma se devo andare in entrata VIP Ma non c'è l'entrata VIP Coglione E qua è qua l'entrata E qua l'entrata Beh guarda il gente No no non mi riconosce nessuno Ma cazzo mi hanno già sgammato Cari Cari Che carini Non ci credo Non ci credo No 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 Ciao 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 Beh Ben Ben Con la sicurezza Oh col body guard Ciao Ciao Guarda cosa mi hanno riappato Ho coperto tutte e due E no, vengono a casa Dopo misturi la moto E il cagnolino? E' tuo Grazie Ma sai il posto che abbia falso? Ma ma cazzo, ho visto un video su mezz'ora e vi faccio la faccia da coglione E' una vagina con un PM No, no, una vagina con un PM Grazie Mi fermi il casco Grazie 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 ciao 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 allora in pratica il raduno è finito non ho c'è stato veramente un casino di gente mai visto così tanta gente e poi c'è il bodyguard che ridere col bodyguard vi rendete conto? c'è il bodyguard per me? adesso da quello che ho capito il nostro obiettivo è trovare un mcdonald per iniettarci dentro al corpo un po' di cibo sano siamo arrivati al mcdonald erano tutti qua e noi non lo sapevamo abbiamo appena finito di mangiare qui dentro tutto quello che ho ingerito probabilmente lo vomiterò questa sera il raduno di edo è finito ringrazio tutte quante le persone che sono venute a salutarmi a chiedermi una foto e a far quattro ciaccole là dentro bisogna andare come sempre vi invito a seguirmi sul mio instagram per guardarvi tutte quante le mie bellissime instagram stories in descrizione vi lascio anche la mia pagina di facebook che è sottovalutatissima ma lì metto tutti quanti i video che non posso postare su youtube e se volete fare dei giri con me sempre sotto in descrizione trovate il mio gruppo di telegram che è un gruppo dove posso scrivere solo io e voi ricevete i miei messaggi per questo video è tutto dall'autostrada a 4 bella raga il raduno è finito volevo farvi vedere ci siamo appena fermati sotto il ponte è appena in tempo chiudi lo zanno che ti baglia questa qui è la grandine che sta fendendo guardate è grandine è grandine pauroso è guarda quanta roba è venuta giù guardate beh ciao